Copri fuoco dalle 21 alle 6 dal 17 ottobre per sei settimane in Francia. Lo ha annunciato il presidente francese Emmanuel Macron parlando alla nazione in una intervista su TFN per rallentare la forte impennata del numero dei contagi da coronavirus. Le restrizioni si applicheranno all'Ile de France, alla regione di Parigi e a otto altre città fra cui Grenoble, Lille, Lyon, Rouen, Montpellier, Toulouse e Saint-Étienne. Questo copri fuoco sarà tra le 21 e le 6 e inizierà a mezzanotte di questo sabato, ha precisato Macron. Testare, avvisare, proteggere, questa è la chiave per la strategia che dobbiamo intensificare per tutto novembre e dicembre perché dovremo convivere con questo virus fino all'estate del 2021. Tutti gli scienziati sono concordi su questo. Non ci sarà un divieto di circolazione tra le 21 e le 6, ci sarà una rigida limitazione. Questo significa che non andremo al ristorante, non usciremo da ristorante dopo le 21, non andremo a casa di amici, non andremo a fare baldoria perché sappiamo che è qui che ci si infetta più facilmente e dobbiamo ridurre questi rischi. Grazie. 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 Grazie.